ecco ma una volta iniziato il trattamento il trattamento nota personalizzata la cura trovato il trattamento lo si inizia come l'efficacia come viene monitorata per vedere se funziona quanto funziona e poi quanti esami si devono fare e quanto spesso si devono fare anche delle visite di controllo perché poi il paziente vuole un po lo vuole sapere paziente un po lo deve sapere il clinico certo la la frequenza la cadenza con cui i pazienti vanno visitati vanno monitorati dipende dal trattamento e dalla fase del protocollo di terapia in cui il paziente si trova normalmente quello che accade è che a ogni ciclo di terapia di qualunque sia la lunghezza si fa una rivalutazione della della malattia che molto semplicemente si può eseguire sul sangue su urine o in assenza di praticamente quella che è definita la componente monoclonale cioè il marcatore di marco di marco mi indica i marker tumorali esatto i marcatori possiamo utilizzare la componente monoclonale come il nostro marcatore ebbene quando questo diventa assente su serurine si deve andare a vedere in quella che è la fabbrica di produzione cioè il midollo osso e questo va effettuato a ogni ciclo di terapia dopodiché la frequenza con cui queste valutazioni verranno effettuate può essere diluita nel tempo sulla base appunto del momento della terapia penso ad esempio i pazienti in post trapianto una fase di mantenimento oppure quando i pazienti interrompono la terapia la frequenza con cui i controlli vanno eseguiti può essere dilazionata nel tempo anche sulla base di quella che la risposta ottenuta pazienti che hanno ottenuto un'ottima risposta possono essere meno monitorati anche se vengono costantemente monitorati con i parametri ma meno visti meno visitati meno costretti poi a dover tornare nelle sedi esatto si può fare anche un monitoraggio a distanza è meglio comunque fare sempre un monitoraggio in ambulatorio in ambito ospedaliero però però i controlli possono essere dilazionati nel tempo per evitare di essere di gravare molto anche sulla fisicità sulla presenza grazie a tutti grazie a tutti